Ciao ragazzi amici, io sono il Jaguar, oggi siamo su un nuovo video di paperino, prezzo in papero, con la scoglietta della paura. Partiamo. Puzzola. Siamo già a dodici vite. Eh no 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 ma dai. Madonna madonna. Non è possibile, non è possibile. Avevo appena detto, ma Dio, Dio, Dio. Ma spostati. Non è possibile. Ma Dio. E vabbè. Paglieti. Gelato, gelato. Oh yes, combo. Madonna, sto recuperando ragazzi, grazie al gelato. Sto ricoprando grazie al gelato. In minuti. E dopo essere morto la prima volta, e siamo già a due minuti e mezzo. E siamo... A metà, a metà, a metà. No, no, no. No, no. No, no. 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 Checkpoint. E sta là. Gelato, gelato. Addormenta. No. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Togliti Ciao livello Con due morti In quattro minuti ce l'abbiamo fatta Ok sbloccato il primo boss Picco di Bernadette Bernadette mica è quella La murosa dei Big Ben Teo Di quella bionda con gli occhiali Con chi fidanzata Non scelgo Ragino Howard Ecco Ciao 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 Ci lancia le uova Ci lancia le uova Le uova Oddio Ah no Più cino più Dov'è Mori Vorrei Vorrei Salta io addosso Ci caga addosso Ci caga addosso Attenzione Salta addosso Oddio Salta Sì Salta Oh yes No Oddio adesso quanti sono Uno Due Mamma mia Combo quasi in aria Occhio Moriamo Proprio adesso Uh E il primo boss è andato a fanball Oh Ciao bello Su angelo Volai in cielo Ok Primo mondo Finito Ok Adesso si sblocca il secondo mondo Guardate Vabbè ragazzi Questo si sbloccherà Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un commento e vi piace Iscrivetevi se non siete ancora iscritti Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti